Ciao a tutti voi amici visionari che come me amate il cinema e le serie tv, io sono Lauretta Buffa del sito visionaire.fm e questo è un nuovo Visio Selfie, una nuova recensione dedicata ad una serie tv che ho visto di recente. Si tratta di Vita da Carlo ed è una serie in 10 puntate disponibile su Amazon Prime Video. Come è facile intuire si tratta di uno sguardo in un momento preciso della vita del amatissimo attore e regista Carlo Verdone che scrive, dirige e interpreta la serie insieme ad altri attori, registi e sceneggiatori. Tutto prende il via dalla riflessione di quanto l'immagine pubblica del protagonista, visto come uomo generoso e sempre disponibile anche per strada a selfie, autografi, una parola buona, porti poi a pagare pegno in un certo senso nella vita privata. Dal punto di vista della narrazione le vicende raccontate ruotano attorno alla candidatura di Verdone a sindaco di Roma e pare che questo non sia solo una pura invenzione narrativa ma che abbia davvero ricevuto questa proposta. Cosa ne penso? Beh innanzitutto è noto che questa serie, questa produzione viene descritta come una commedia biografica. Io mi permetto di aggiungere commedia dolce amara con biografia romanzata. Devo dire che gli episodi sono velocissimi, durano tutti 30 minuti ma veramente sono corsi via, li ho visti tutti di un fiato e se avessi potuto mi sarei goduta la serie tutta in una serata sola ma per evidenti limiti di tempo non ho potuto. Quindi in due sere mi sono guardata tutto con enorme piacere. Che cosa penso? Beh penso che sì le puntate corrono via veloci ma vi ho trovato anche un senso di autoironia, un sorriso dolce amaro e anche un senso quasi di ricerca, quasi come se Verdone facesse un po' il punto della propria vita, della propria carriera e lo volesse fare insieme a noi, i suoi spettatori. È un po' come se dicessi al suo pubblico ma adesso chi sono? Dove vado? Cosa faccio? No? E è un po' anche la domanda che ci facciamo tutti noi quando rimaniamo soli soletti nell'intimità della nostra casa e facciamo un po' un bilancio di quanto abbiamo fatto fino ad ora. Ecco questa serie a volte mi suona proprio come un bilancio. Ok questo è il punto, sono arrivato qui da ora in poi, che cosa voglio fare della mia vita? A me ha risuonato così, magari ad ognuno di noi può ricordare altro, può toccare altri tasti immagino e insomma personalmente ci ho sentito una grande voglia di cercare un'evoluzione anche a ganci al presente. Per esempio specialmente in una puntata viene nominato Sorrentino e non mi ricordo se è la stessa puntata o un'altra comunque c'è una rappresentazione, c'è una scena di Verdone che una notte incontra una statua della Madonna illuminata da un neon e lì ho pensato veramente, mi ha fatto, mi ha ricordato la serie The Young Pope di Sorrentino anche se questo sorrentinismo se vogliamo che ho colto io è stato però verdonizzato, cioè lui l'ha fatto proprio e lo ha trasformato facendomi ridere, ridere parecchio devo dire la verità, ecco se vi aspettate di sganasciarvi dalle risate no ecco non è questo il caso però si ride, si ride di gusto, si ride, è una risata come posso dire piacevole, inside, è una risata inside, è un sorriso, un grande sorriso inside che ti fa apprezzare quanto fatto da Verdone, ti fa arrivare in fondo alla serie in un battibaleno, ecco si sorride parecchio e con soddisfazione spero di esserti stata utile a scegliere che cosa guardare questa sera, spero proprio di sì, mi raccomando ricordati di lasciarmi un like come segno di gradimento o anche semplicemente solo come segno di questo, del tuo passaggio su questo canale, anzi iscriviti al canale, aiutami a fare crescere il canale che è cosa buona e giusta e ti ringrazio e se vorrai partecipare alla discussione commentando il video oppure anche semplicemente commentando sui social, io sarò ben contenta di risponderti, avere un piccolo scambio insieme, per il momento è tutto da Lauretta Buffa e da Visionaire, al prossimo episodio, ciao ciao!